Numeri in costante crescita al Teatro Romano di Benevento che a metà stagione fa registrare già un aumento di circa 3.000 presenze rispetto allo scorso anno. Un'estate all'insegna dell'arte e della cultura per il sagno che continuerà con numerose iniziative. Nel primo semestre, diciamo fino a ieri, siamo oltre 3.700 visitatori in più in rapporto al 2018. Stavamo a 11.000 qualcosa nel 2018, siamo a 15.000 e oltre adesso. Si prevede, diciamo, che questo trend di aumento intorno al 37% possa essere mantenuto per tutto l'anno. E da quest'anno al Teatro Romano di Benevento torna anche la grande lirica. Ho voluto che si coniugasse il patrimonio culturale con la musica e con la lirica. Non è da poco avere il 4 agosto un rigoletto con la regia di Katia Ricciarelli, l'11 agosto i pagliacci con la regia di Vittorio Sgarbi. E il 7 settembre la vedo allegra che sarà a cura del Teatro Verdi di Salerno. Confermate inoltre le aperture serali, ben 12 infatti, gli appuntamenti previsti a settembre. Ci saranno molte aperture serali, sicuramente quella del 21 settembre che riguarda la Notte dei Musei. Ma sicuramente faremo in collaborazione con la sovrintendenza ABAP di Caserta e Benevento un'altra iniziativa. Faremo 12 aperture serali a settembre con il teatro che eventualmente si racconta.